Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il Giornale Radio. Proseguono i controlli anti-covid nel sud pontino da parte della polizia. In questo modo le forze dell'ordine hanno scoperto una donna di Gaeta che era a passeggio con i suoi figli nonostante fosse positiva al coronavirus e quindi sottoposta a un regime di isolamento presso la propria abitazione. Per la donna è scattata immediatamente una denuncia per violazione delle norme anti-contagio. Durante i controlli del fine settimana i poliziotti di Gaeta sono intervenuti sul lungomare di Serapo dopo una segnalazione giunta tramite l'app YouPool multando cinque giovani di fondi che si erano allontanati dal proprio comune di residenza senza alcun valido motivo. Insieme alle multe per i giovani in trasferta altri ragazzi sono stati invece multati dai poliziotti e perché una volta intervenuti hanno notato il mancato utilizzo della mascherina. A proposito di covid-19, nella giornata di ieri 112 casi riscontrati in provincia di Latina secondo quanto riportato dal bollettino dell'ASL sono 21 i nuovi positivi ascrivibili al territorio del sud pontino dove il maggior numero di casi viene registrato nel comune di Formia con 7 nuovi positivi. 9 le nuove guarigioni a livello provinciale e sempre 9 i nuovi ricoveri. Nello stesso arco di tempo dall'azienda sanitaria informano che sono state effettuate 1869 vaccinazioni nelle ultime 24 ore, decisamente meno di quelle dei giorni precedenti. Nella città di Fondi dove nei giorni scorsi era stata riscontrata apprezzione per il ceppo di coronavirus meglio conosciuto come variante brasiliana, ieri è stato reso noto che si è provveduto sempre nei giorni scorsi a fare i tamponi all'interno del comando della polizia locale dove il covid si sarebbe diffuso. Il report dello screening che ha riguardato in totale 26 persone ha confermato per tutti la negatività ai numerosi tamponi rapidi effettuati nei giorni precedenti. Due agenti della polizia locale purtroppo però sono ancora ricoverati, altri sono in isolamento preventivo ma diversi sono anche quelli che erano stati contagiati ma sembrano in via di guarigione. La città di Formia si è classificata al secondo posto regionale nella graduatoria del progetto ossigeno, quello relativo alle manifestazioni di interesse per la piantumazione di nuovi alberi e arbusti. A determinare l'ottimo posto della città di Formia sembra ci sia stato il progetto a scuola dell'albero che avrebbe fatto schizzare in alto il punteggio. A dare notizia del risultato ottenuto il movimento civico un'altra città vicino all'ex sindaco Paola Villa inizialmente hanno fatto sapere dal gruppo verranno piantati a cura e a spesa della regione Lazio ben 460 alberi di differenti specie con un grande vantaggio ovviamente in termini di produzione di ossigeno e anche di salubrità dell'aria. Una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e una distribuzione di borracce nonché un'iniziativa di sensibilizzazione con protagonisti gli studenti della città. In questo modo il Comune di Fondi aderisce alla Giornata Mondiale della Terra, l'evento green più importante dell'anno che si celebra il 22 aprile in contemporanea in tutto il mondo. Dalle 8 alle 13 di giovedì infatti i cittadini potranno conferire i rifiuti ingombranti dalle 8 alle 13 in piazza Archimede Amlet Rotunno accanto alla sede della polizia locale. Ai primi 50 cittadini sarà donata una borraccia termica in alluminio. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.